Avvocato, civilista, 46 anni, fisico asciutto d'atleta, un largo sorriso ed una ferrea volontà. Sarà l'avversario di Renato Di Rocco alle elezioni per la presidenza della FederCiclismo. Il suo cognome, ereditato dal papà Felice, è diventato sinonimo della parola ciclismo. Lei è Norma Gimondi. Come nasce questa candidatura? Nasce dalle sollecitazioni che ho ricevuto dal mondo del ciclismo, dai dirigenti, dalle società, dai tecnici e anche dai produttori di biciclette, del settore del ciclo che operano in Italia. Hanno chiesto loro una mia discesa in campo in prima persona. Candidatura di genere in un mondo dello sport che vede solo uomini al comando, Norma Gimondi è una ventata anche di modernità e freschezza. Devo dire che forse è il momento che le donne entrino nella politica sportiva in un certo modo. Sono già protagonista in altri settori, in altri ambiti, lo vedo io nell'avvocatura, quindi benvenga un ingresso di questo tipo anche nel ciclismo e nello sport. Un cognome, simbolo per il ciclismo. La bicicletta e il mondo delle due ruote sono sempre stati di casa nella sua vita. La mia discesa in campo è un po' anche dovuta al fatto che come mio padre amo il ciclismo, amo questo sport e vorrei lavorare per migliorarlo. E spero di fare un programma vicino alla base, cioè alle società, vicino alle problematiche e di poterlo portare avanti.